Ciao a tutte e a tutti e a tutto anche da parte mia eh due parole velocissime su cos'è Offtopic. Offtopic è un collettivo eh nato dodici anni fa eh nel solco di quella che era all'epoca la eh il contrasto, la lotta, la mobilitazione contro quello che sarebbe stato il grande evento Expo duemila e quindici eh un collettivo che ha sede eh in quello che è rimasto l'ultimo e oggi forse l'unico spazio occupato al quartiere Isola a Milano, Piano Terra eh un quartiere che è appunto il simbolo di quello che succede in una metropoli moderna, in una metropoli dove tutto è finanza e finanziaria realizzato a partire dal suolo pubblico eh cosa succede quando un grande evento all'epoca Expo oggi saranno le Olimpiadi arrivi in una metropoli e ne sconvolge tutto eh come appunto anticipava Gaia non solo l'aspetto ambientale ma anche sociale ed economico eh e quindi ecco perché parlare oggi di Olimpiadi che siano Olimpiadi invernali, Olimpiadi estive eh anche perché poi le due cose oggi hanno sempre meno differenziazione visto che fanno le Olimpiadi invernali in città come Milano, Pechino dove nevica forse una volta all'anno due centimetri mal contati eh perché ormai le Olimpiadi, le Olimpiadi contemporanee a quanto meno degli ultimi trenta, quarant'anni e tutto tranne che un evento sportivo, è puro business, è puro business da un lato perché ovviamente mobilita non solo eh grandi gruppi multinazionali a livello di sponsorizzazioni, a livello di eh realizzazione delle opere eh prima si accennava alla pista di Bobo di Cortina, si vocifera che uno dei possibili costruttori sarà WeBuild, già nota come eh eh Salini in pregiro e quindi parliamo di uno dei principali gruppi di engineering costruzioni canteristica a livello mondiale. Eh quindi mobilitano grandi interessi, mobilitano grandi attenzioni da parte di chi capisce che dentro la macchina olimpica eh c'è da fare affari e capisce che dentro la macchina olimpica c'è da fare affari perché la caratteristica della macchina olimpica contemporanea è quella di mobilitare grandi risorse ovviamente spesso sicuramente in Italia di derivazione pubblica eh grandi risorse che alla fine sono sempre molte di più di quelle dichiarate inizialmente eh la media delle olimpiadi degli ultimi decenni si parla circa di costi finali pari al centoquarantadue per cento dei costi che erano stati dichiarati in sede di presentazione della candidatura e così sta succedendo anche per l'operazione Milano Cortina con costi che lievitano non dico quotidianamente ma quantomeno settimanalmente sì eh sono diventate un meccanismo soprattutto nelle metropoli ma vediamo e vedremo e sarà sicuramente Luigi raccontarcelo non solo nelle metropoli che alimentano sempre di più fenomeni che nulla hanno a che fare con lo sport eh e che le rende di fatte quindi indesiderabili e non è un caso quindi se noi andiamo a vedere come sono state aggiudicate le ultime olimpiadi svolte o che si svolgeranno le prossime di Parigi Milano Cortina nel duemilaventisei Los Angeles nel duemilaventotto è stato così per le precedenti olimpiadi assegnate praticamente ad un unico contendente perché ormai appunto l'aspetto economico l'impatto che hanno sui territori l'impatto che hanno sulla società fa sì che laddove le amministrazioni locali le popolazioni i territori o per strumenti di democrazia partecipativa diretta o per strumenti istituzionali hanno potuto pronunciarsi i territori hanno detto non le vogliamo le olimpiadi sia territori come dire che mai hanno sperimentato sulla loro pelle cosa vuol dire organizzare un'olimpiadi soprattutto territori che l'hanno già sperimentato e che quindi alla retorica della grande opportunità della sostenibilità della grande occasione di sviluppo di posti di lavoro eccetera 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 non ci credono più perché hanno sperimentato che non è vero perché non è vero che olimpiadi che senza pensare al gigantismo di alcune edizioni come soci o come Pechino che hanno veramente raggiunto livelli di costi inenarrabili ma per rimanere anche a olimpiadi fatte nella vecchia Europa come si suol dire olimpiadi che costano 3 4 5 6 10 miliardi di euro o di dollari poco cambia beh è un costo che i territori non sono più disponibili a supportare perché è un costo che ovviamente va a gravare dicevamo prima derivazione in gran parte pubblica va a gravare ovviamente su quello che poi lo stato le amministrazioni locali possono fare dovendo scegliere ovviamente dentro un perimetro sempre più ristretto che quello delle risorse economiche disponibili il fatto che siano indesiderabili e quindi il fatto che Milano Cortina siano state sostanzialmente assegnate con unico contendente la città di Stoccolma che aveva questa bellissima candidatura per cui era sostenuta dal comitato olimpico svedese era sostenuta dal ministro dello sport svedese ma col sindaco di Stoccolma che ha detto noi non le vogliamo quindi immaginatevi voi quale livello di costruzione del consenso possa aver fatto la città di Stoccolma rispetto alla propria candidatura cosa che invece ha visto spendersi in maniera assolutamente trasversale e come si suol dire bipartisan dalla Lega al PD a qualsiasi esponente politico locale in Lombardia piuttosto che in Veneto piuttosto che a livello nazionale convinti di venderci la grande barzelletta delle olimpiadi sostenibili a costo zero a impatto zero e tutte queste belle cose raccontate peccato che basta guardare quello che è accaduto ma senza andare a Pechino a Sochi a Londra dove ci sono altrove ci sono state le recenti olimpiadi basta andare a Torino basta andare nelle valli occidentali del Piemonte in Val Susa nelle valli parallele e vedere cosa sono i giochi olimpici in quel caso invernali oggi cattedrali del deserto lasciate nelle valli perché vengono fatti impianti che poi non trovano utilizzo sui territori perché non c'è una popolazione sportiva o una popolazione comunque potenziale che utilizzi impianti per discipline dove ci sono in tutto il territorio nazionale venti atleti non ci sono lasciti positivi nelle città perché anche a Torino se andate a vedere i rilasciati sulla città di Torino e delle olimpiadi sono palazzi che sono stati abbandonati per anni sono come dire non luoghi di cemento e brutture varie non lascio l'eredità per quello che dovrebbe essere l'essenza delle olimpiadi cioè lo sport non c'è nessun collegamento diretto tra il fatto che un paese ospiti dei giochi olimpici e investa su dei giochi olimpici e il fatto che poi in quel paese cresca una cultura sportiva una pratica dello sport un'attenzione rispetto anzi mi viene da ridere pensare che Milano si sta candidando per le olimpiadi invernali dove è vero non c'è la pratica del nuoto come sport olimpico voi oggi provate andare a nuotare a Milano in una piscina comunale e scoprirete che ne trovate più chiuse che aperte e quelle poche aperte sembra di andare nei bagni da 40 euro al giorno non nella piscina comunale quindi anche lo sport ne esce sconfitto ne esce sconfitto perché appunto come dicevo all'inizio lo scopo dell'olimpiadi non è fare sport ma è mobilitare risorse mobilitare interessi e generare dei dispositivi di governance straordinari che poi permettono di fare le peggio cose permettono appunto di come dire stravolgere non solo i territori ma soprattutto di stravolgere l'essenza stessa di cos'è il concetto di sport di olimpiadi e quindi di evento in qualche modo positivo se vi ricordate tra il 2018 e il 2019 quando appunto sono stati venduti giochi olimpici Milano-Cortina come l'evento a cui non si poteva rinunciare il tema proprio centrale è stato quello della sostenibilità non a caso non a caso perché era un po' difficile andare a raccontare in una città come Milano che era appena uscita da un'operazione Expo e che ancora invece sta continuando in un solco di continuo consumo di suolo eccetera eccetera andare a raccontare a territori montani che siano quelli della Valtellina o quelli dolomitici dove ogni due per tre cadono frane alluvioni dove le popolazioni insomma andare a raccontare a questa gente che avrebbero fatto delle schifezze non era ovviamente pensabile e quindi la grande narrazione della sostenibilità poi quella narrazione piano piano crolla ne parleremo dopo però ogni giorno quella patina sulla sostenibilità viene in qualche modo annullata da quello che accade poi nei fatti cito una cosa a caso proprio perché credo che poi questo sia oggi il vero significato del definire insostenibili olimpiadi cioè come Gaia diceva nella sua introduzione viviamo un'epoca dove ormai parlare di emergenza climatica di crisi climatica di crisi ambientale è quasi ridondante tanto evidente sotto gli occhi di tutti viviamo in territori che sia la pianura veneta o che sia quella lombarda dove il suolo ha bisogno di tutto e dove i nostri polmoni per l'aria che respiriamo hanno bisogno di tutto tranne che di asfalto di cemento di consumo di suolo quindi è evidente che qualsiasi operazione che sia un grande evento che sia una grande opera che siano i mondiali di calcio che sia il TAV che sia le olimpiade che non tenga conto di qual è la priorità è di fatto insostenibile quindi inaccettabile quindi aveva ragione Gaia a dire non dobbiamo vergognarci a dire no perché oggi dire no è il primo principio di realismo di fronte a un mondo non ce lo stanno raccontando ma ci sono le pianure greche che sono immerse dall'acqua da giorni un'alluvione forse peggiore di quello che ha colpito la Romagna pochi mesi fa non ce lo stanno raccontando però chiunque di voi come dire scrolli qualsivoglia social troverà posti immagini o quant'altro quindi se questo è il pianeta questo pianeta non può più accettare che in nome dello sport si facciano nuove schifezze nuovo asfalto nuove infrastrutture nuove come dire nuove opere che nulla servono se non ai profitti come voi avete scritto di chi le fa e non certo i bisogni delle popolazioni che le sopportano ecco perché sono indesiderabili dove la gente può dire di no ecco perché sono insostenibili noi abbiamo il dovere non abbiamo potuto dirlo prima ma oggi abbiamo il dovere di fare qualsiasi cosa possibile non tanto perché ovviamente è abbastanza irrealistico dire no a Milano Cortina 2026 però abbiamo il dovere di dire no a tutte quelle cose a cui possiamo dire no dentro l'operazione Milano Cortina 2026 abbiamo il dovere di fare quella cosa finta ma che ci raccontano perché chi ha fatto studi classici sicuramente li avranno raccontato della Pax Olimpica greca c'era una palla perché la Pax Olimpica c'era per Atene e Sparta forse poi in tutto il mondo c'era la guerra non gliene fregava niente a nessuno no ecco dobbiamo smontare anche il mito delle Olimpiadi come momento in cui il territorio si pacifica in nome dello sport no noi in quei giorni dobbiamo andare a dire qua c'è conflitto questi territori non sono in pace questi territori sono stupi di sopportare di essere predati sfruttati consumati inquinati per il profitto di pochi a danno delle moltitudini che le vivono grazie